Mister, rispetto a Monticelli è una squadra completamente rivitalizzata anche da un punto di vista mentale. Abbiamo visto Rappagnani e Dierra per esempio entrare in campo davvero con un piglio completamente diverso. Ottima la prova di Castellano. Sì, diciamo che Monticelli è stata... Lì abbiamo sbagliato l'approccio mentale, forse abbiamo pagato qualche spiffro di mercato. La squadra nostra è giovane, quindi ha distratto un po' quella partita e fa poco testo. Noi venivamo altrimenti da quattro vittorie, quindi ragazzi si può dire poco, cinque vittorie nelle ultime sei partite. Oggi c'era da soffrire, lo sapevamo. Bravissimi in dettutura, Rappagnani, Castellano è entrato subito nei meccanismi, non era facile. Una settimana solo insieme, lo stesso Capaldi ha dato un contributo importante, poteva chiudere la partita. È andata fuori di pochissimo. Faccio un applauso alla difesa, non abbiamo preso gol, quindi è un dato importante. Abbiamo vinto da squadra. Questo è il dato che non è nei numeri, ma che oggi viene fuori da questa partita, emerge da questa partita. Sono strafelice perché i ragazzi se lo meritano in pieno. Una squadra che aveva perso il giorno Pischuk, un elemento di grande valore, però come detto del gruppo ha avuto la meglio di queste difficoltà. E poi adesso domenica arriva la Civitanovese in un match in cui dovrei essere forse bravo a gestire da un punto di vista psicologico. I ragazzi sinceramente non lo so, perché i ragazzi sono giovani, i giovani fai difficoltà a volte a limitare gli alti e bassi. Anzi, questa è la loro forza forse, nel senso che tanta energia in alcuni momenti. Oggi quando sono usciti ho visto Mariani, Castellano in panchina, incitavano sempre. I ragazzi sono pronti per il derby domenica. Chiaramente sì, è una partita difficile anche domenica prossima, quindi saremo pronti e carichi, ma soprattutto perché ci serve per la classifica. Al di là, l'ho detto anche prima, del campanilismo, non ci serve per stare là davanti. Abbiamo fatto nove vittorie, due pareggi, due sconfitte. È una striscia importante, nonostante questo siamo a meno quattro punti dalla prima. Nell'altro girone saremo primi per distacco, quindi fare bene non basta, occorre sempre guardare avanti. Mi dispiace per Roman, come dicevi prima, Roman è un giocatore importante per noi, ma è un'opportunità grande per Papa per mettersi in mostra e ampliare ancora il suo bottino di gol. Mister Santoni, una prova d'orgoglio qui all'Elviarecina contro la maceratese che vi lascia un po' da mare in bocca per quanto riguarda il risultato finale maturato. Sì, molto amare in bocca. Secondo me la sconfitta è immeritata. Purtroppo abbiamo avuto questo infortunio negli ultimi minuti del primo tempo che ci è costato la partita, perché altrimenti secondo me la maceratese non ha avuto altre occasioni. La partita poteva tranquillamente finire sullo 0-0, anzi, prima del loro gol abbiamo avuto noi un paio di occasioni, con una bella parata del portiere sulla punizione di D'Angelo, la traversa di Pepi, quindi potevamo tranquillamente passare in vantaggio noi. Penso che il risultato più giusto fosse lo 0-0, però la maceratese certamente non ha rubato nulla, perché noi il gol ce lo siamo fatti da soli e non è certamente colpa loro. Poi quello che mi dà più amarezza è la direzione arbitrale, perché non ci hanno permesso negli ultimi 20 minuti di entrare dentro l'area fuori gioco, sistematico, non c'era possibilità di entrare nella loro area di rigore, però con atteggiamenti anche che forse danno fastidio, però ripeto andiamo avanti, non è certo nemmeno colpa dell'arbitro se abbiamo perso, quindi tiriamo avanti. Una squadra la tua che non esce certamente ridimensionata perché può ambire alla zona playoff, a mio avviso. Grazie, noi non abbiamo un obiettivo preciso, dobbiamo in questo momento raggiungere più punti possibili da qui alla sosta di Natale, e poi finito il girone andata, quando la classifica comincerà ad essere veritiera, perché tutte le squadre avranno affrontato tutte le avversarie, quindi 15 partite e metà campionato, tireremo le somme e vedremo adesso anche questi ultimi 15 giorni di mercato, di apertura delle liste, purtroppo creano un po' di turbativa dentro lo spogliatoio, perché ci sono le porte un po' girevoli, e bisogna stare attenti anche a fare e a dire delle cose, perché i giocatori sanno che possono tagliare la corda quando vogliono, quindi sono 15 giorni difficili, però noi come i giocatori hanno le loro carte, noi metteremo in campo la nostra esperienza, perché ormai sono anni che siamo in mezzo al campo e cercheremo di fare come al solito il meglio possibile. Grazie